www.manuelcant.it il sito raccomandato dell'eleking tv per i prossimi acquisti di card e figurine link in descrizione ragazzuoli ciao a tutti ragazzi e benvenuti su l'eleking tv come vedete ragazzuoli qui in mezzo a queste bustine del primo tempo del secondo tempo c'è una bustina premium da 5 euro ecco qui ragazzi questa è la nostra prima bustina che apriremo in questa stagione della xl 2020 2021 che differenza c'è tra questa bustina e le altre allora c'è una differenza che all'interno ci sono 10 card che potete vedere di cui una limited edition che si trova soltanto nelle bustine premium e 3 card speciali e 6 base ok questa è la differenza tra questa e le altre le limited edition che si possono trovare ce ne sono anche 3 che potrebbero essere autografate che sono quella di lukaku chiellini e immobile in più si può trovare il trofeo uno di questi trofei e attivandoli nel sito i primi 100 che attivano tutti e tre i codici poi vinceranno una maglietta della propria squadra preferita allora ragazzi per questi saluti della domenica come vedete ho preso primo tempo il secondo tempo ho intenzione da portarle così per ogni domenica per i saluti in modo così ci sono tutte le squadre quindi voi potete scegliere qualsiasi squadra per essere salutati anche se il primo tempo ormai l'ho quasi completato manca veramente pochissimo però per fare in modo insomma che tutti abbiano la possibilità di essere salutato anche chi magari la squadra fa parte delle card del primo tempo tipo non so mi viene in mente la juventus e se spacchettiamo soltanto card del secondo tempo logicamente la juventus non c'è e se c'è c'è soltanto nelle card speciali allora apriremo prima le bustine normali poi apriremo quella premium speriamo che esca fuori qualcosa di buono magari un'autografata non mi è mai capitato in tanti anni di spacchettamento di trovare una card autografata adrenali non l'ho portata spesso sul cancetto nel senso l'ho portato tutti gli anni ma quest'anno sto portando con molta più decisione questo questa raccolta quindi speriamo magari di essere premiati con un'autografata vediamo cosa esce fuori iniziamo subito con una bustina il primo tempo apriamoci prima questa giriamole perché lì c'è subito allora il primo un attaccante ed ecco a me della fiorentina con la fiorentina nessuno ha chiesto di essere salutato e salutiamo samuel e tosi che non ha specificato nessuna squadra poi abbiamo un difensore ed è scrignar dell'inter con l'inter dobbiamo salutare mattia juventino cioè mattia juventino si può salutare con l'inter e poi abbiamo un portiere ed è marchetti del geno e salutiamo donato di ciao donato un difensore ed è samir del dell'utinese e abbiamo l'idolo buffon eccolo qua con l'idolo salutiamo calamaro channel che ha chiesto di essere salutato con una card idolo e salutiamo anche i tifosi della juventus tra cui joseph el baudi e feiz otti e isan gamer poi abbiamo lucic centrocampista e super combo del torino ok andiamo avanti apriamo un'altra bustina di qua questa volta secondo tempo a campora dello spezia faragò del cagliari che se non sbaglio già l'ho trovato faragò del cagliari comunque col cagliari salutiamo david bocchino 77 ciao david buona domenica il marocchino di nonna isa buona domenica anche a te continuiamo scuten del bologna pereiro del cagliari di nuovo chiellini della juventus idolo e douglas costa della juventus assist man ok andiamo con un'altra bustina al primo tempo il primo indifensore ragazzi sto facendo vedere i codici perché tanto li riscatto subito dopo aver girato il video aver registrato il video perché nei primi video praticamente mi sono stati presi già dei codici se siete più veloci di me a caricarli e quindi non ci importa lo faremo in questo modo delict della juventus un portiere ed è consigli del sassuolo un difensore chi è questo difensore scappa via bocchetti del verona ferrari del sassuolo guanto d'oro cesni della juventus lucacu top player che già abbiamo abbiamo trovato un top player quindi doppione ok abbiamo un doppione come top player allora manca da salutare qualcuno con una stella poi con la roma l'atalanta la sample milan vediamo se esce fuori qualcosa qui dovrebbero essere tutte squadre che si trovano a questa parte troviamo Carboni del Cagliari Darmian del Parma Cavrari del Benevento Marrone del Crotone Metel Centrocampista e idolo del Bologna e Simi Supercombo del Crotone andiamo a aprire un'altra bustina a primo tempo e ci abbiamo Silvestri del Verona poi abbiamo Perin del Genoa Candreva dell'Inter Douglas Costa della Juventus Beriscia quanto d'oro e Rebic Stella quindi con la stella salutiamo Gini e Leo De Luca ciao Leo buona domenica buona domenica a tutti ragazzi allora andiamo a aprire l'altra bustina a secondo tempo è l'ultima del secondo tempo per questo spacchettamento poi c'è quella molto più interessante che è quella premium di bustina ad aprire che speriamo che esca fuori qualcosa di importante non abbiamo ancora trovato neanche un top player per quanto riguarda il secondo tempo vediamo se ci sarà fuori Bruno Alves del Parma Moncini del Benevento Pezzella del Parma Sportiello dell'Atalanta e l'Atalanta abbiamo da salutare Matt Gamer Gamer ciao Paolo Opez quanto d'oro Paolo Opez quanto d'oro vabbè ci hanno fatto certe cose Peres Itolo vabbè quanto d'oro Paolo Opez e salutiamo Cristian Frioni che è il tifoso della Roma come me e poi Cornelius Bomber del Parma salutiamo poi con la Samp XX Anto 10 XX e con il Milan alle YouTube Alex ok ragazzi per prenotarvi per essere salutati la prossima domenica commentate qui sotto mi saluti con la card di una squadra se una card stella con una card top player che magari lo troviamo e via dicendo io cercherò di accontentarvi la prossima settimana la prossima domenica intanto abbiamo da aprire questa bella bella bustina premium da 5 euro si molto molto cara poi ci sono anche le oro che costano ancora di più vediamo se ne valsa la pena fare questo questo investimento chissà se iniziano delle normali si abbiamo Verdi del Torino Muldur del Sassuolo l'abbiamo pure pulgari specialista chiellini limited edition questa ci manca la limited edition normale che potete vedere e abbiamo un diamante che è millico che ci manca del Torino allora ragazzi la nostra limited edition trovata in questo pacchetto è Giorgione chiellini senza autografo di importante abbiamo trovato tre guanti d'oro di cui due doppioni no quattro guanti d'oro che cosa sto dicendo quattro guanti d'oro perché abbiamo trovato Paolo Lopez Scesni Stragoscia due volte poi abbiamo gli idoli Buffon e sempre Giorgione chiellini Cornelius Bomber uno spacchettamento abbastanza soddisfacente Stella Rebic non ci possiamo lamentare di questo spacchettamento è andato abbastanza bene anche se speravo di trovare qualcosa di più importante nella bustina premium io vi saluto ragazzi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti